Devo dire che farci essere stato sul palco dell'Ariston per me che ho 26 anni comunque è un passo molto grande perché non è che capita sempre tutti i giorni di essere su un palco come quello dell'Ariston poi essendo stato accanto a tutti i big, quelli proprio i big big perché c'era Loredana, Paola Turci, Renga, Neck insomma sono cantanti con la C proprio così no? È stata una cosa bellissima, credo che non la dimenticherò mai e la porterò sempre con me e sono molto contento di esserci stato. Se ci penso un po' mi vengono ancora i brividi perché io alla prima serata ho detto adesso svengo, muoio, cado giù per terra e basta invece devo dire che ce l'ho fatta a stare un po' più calmo e tranquillo e sarà una cosa che mi porterò sempre con me sempre perché è veramente una cosa bellissima. Mi ha fatto un po' crescere perché è un palco molto grosso importante, ecco la parola giusta. Comunque un po' ti fa crescere quando sali sopra questo palco insomma dove sono stati tutti i big della musica un po' ti cambiano, ti fa un attimo vedere le cose da un altro punto di vista. Poi tutti loro comunque mi hanno sempre dato degli ottimi consigli tipo Renga, Neck, Paola Turci, sono sempre stati tutti molto buoni e carini e quindi si sono cresciuto un po'. Ovviamente è stata veramente una cosa tosta perché la senti proprio quando sei... ero sopra l'Ariston e ho detto oddio adesso tocca a me, devo cantare io, quanta gente che mi guarda a casa, dal pubblico lì, però credo si deve aver fatto una bella cosa, una bella cantata.